Salve signore e signore, bentornati su Brawl Stars Oggi completeremo la missione Vabbè, mi manca solo una partita da vincere Quindi non credo che durerà tanto Però vabbè Finiamo questa missione Poi completiamo anche gli altri Che ne ho un bel po' Vabbè Completiamo questa missione Usiamo Bull E andiamo Spero che me ne diano buona Mi stai l'ultima partita Volo vince Ok, innanzitutto Non sempre, però Volevo fare il vero guardiano del trofeo Oh, sono riuscito Io sono riuscito a forzare la coppa ai miei compagni Sì, dai dai, dai Grande E' così Cosa vuoi fare contro Bullard? E' così E' questa Pasta Venta Ok La missione è completata Adesso abbiamo Brock Vinci tre battaglie con Brock Ok Quindi usiamo Andiamo Con chi sono con se Ora non devi stare fermo Ma fa qualcosa Oh, bravo Oh, bravo Ehm, ti proverà Ok 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 Vabbè Ha come stare Oh, scontri Ho creata la partita in vita Anzi Io oh no oh no oh oh sei oh 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 C'è un'astro merendiglioso che il ballo è offenspire. 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 Perfetto, finita la missione. C'è un'astro merendiglioso che il ballo è offenspire. E' anche il signor Pocho che mi ha fatto finire la missione. Così mi posso prendere... Vabbè. Questo lo faremo la prossima volta. Questa volta usiamo Pocho. Questa volta usiamo Pocho. Questa volta usiamo Pocho. Questa volta usiamo Pocho. Pocho. Questa è un'astro merendiglioso che il ballo è offenspire. Cosa è un'astro merendiglioso che il ballo è offenspire. No, 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 no. La missione poi ho completato il passo, in teoria. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. E' un vero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh! Molto provabile! Non so. Ok! di carla iris io vi ringrazio per la visione lasciate scrivetemi nei commenti che quale quale punti di energia dovrei dare a quale prove dovrei dare e niente spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo a un prossimo video bella